Sono circa un paio di anni che le criptovalute stanno soffrendo tantissimo non soltanto in valore assoluto ma anche relativamente per esempio ai prezzi del re di bitcoin che comunque nell'anno 2023 ha fatto benino anche se ancora non è finito l'anno. Queste sono alcune delle criptovalute che come vedete sono in profondo rosso rispetto a bitcoin non rispetto ai prezzi in dollari con poi ribassi sostanziosi a parte insomma il token di FTX che ovviamente si è azzerato però anche quelle più normali hanno perso nell'ordine del 70-80% rispetto a bitcoin la stessa ethereum la seconda cripto più importante al mondo ha perso tantissimo rispetto a bitcoin. In un contesto del genere sembra assurdo forse è anche un po' rischiosetto andare a cercare di comprendere ma è possibile sfruttare questo tipo di discorso per poter magari creare o mantenere sotto il nostro controllo alcune criptovalute sotto un monitor per essere visionate e controllate giornalmente e poi sempre a favore di trend perché trend is your friend. Magari fare qualche tocchettino long per un'eventuale prossima burrun sembrerebbe assurda una cosa del genere ma è possibile farlo e ci sono delle tecniche anche molto semplici ragazzi che potete mettere in pratica per scegliere quindi fare uno screening di quelle che sono le cripto da tenere sotto controllo. Poi a livello operativo bisogna sempre fare analisi grafica e solo a inversione di trend andare magari a tentare delle operazioni long su queste cripto esclusivamente avendo già creato un trading plan una struttura di gestione del vostro investimento che comprenda ovviamente lo stop loss. Non sono consigli finanziari ma sono consigli quando vi dico andatevi a formare in quest'ambito perché le opportunità sono tante e c'è bisogno di avere conoscenza e tecnica per poterle prendere ma le soddisfazioni non sono da poco ragazzi è assolutamente è così. Allora andiamo oggi a vedere quelle che sono queste tecniche queste semplici faremo anche un esempio pratico per andare a fare uno screening di criptovalute e creare un portafoglio cripto che possiamo visionare e se diciamo possiamo guardarlo per poi decidere quando andare magari ad agire in un'eventuale fase successiva a questa attuale di chiusura del ciclo anuale di bitcoin che poi può portare perché no all'eventuale fase di bull run del settore che se ci sarà ovviamente non lo sappiamo dovrebbe essere il prossimo anno con il ciclo dell'Halvinger. Vieni andremente di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e poi lasciatemi un mi piace ragazzi su questi video mi date una mano soprattutto fatemi sapere cosa ne pensate voi questa è una tecnica estremamente semplice ce ne sono tantissime però secondo me a volte la chiave sta proprio nella semplicità e la semplicità è molto più forte a volte della complessità proprio laddove il tempo perso tra virgolette quindi speso investito nel fare questo tipo di ricerca è iper massimizzato dai risultati che si ottengono che ovviamente non sono pulitissimi hanno bisogno di fare altre analisi ma al contempo ci mettete 10 minuti quindi sicuramente è un punto di portenza sensato logico con una tecnica e un'idea di fondo che è banale ma è potentissimo un po' l'effetto pareto 80 20 no ragazzi non ho detto il mio bene ciao tu lo dico adesso bene ciao a tutti bentornati in questo nuovo video video sul portafoglio delle cripto le tecniche più fighe da utilizzare e quelle facili da utilizzare per fare uno screening di cripto da tenere sotto il vostro monitor iniziamo subito con la problematica relativa a questo argomento un sacco di progetti cripto sono scam questo problema è molto sentito per una serie di motivi molti progetti cripto non vedranno mai la luce alcuni falliranno inesorabilmente altri in pratica non otterranno mai il consenso del mercato anche se al di sotto di quei progetti per esempio sono andati a svilupparsi magari delle tecnologie interessanti ma semplicemente il mercato non le vuole la struttura di progressione tecnologica dei mercati è così su mille invenzioni due vedono la luce vedono il mercato hanno il successo sul mercato quindi nel momento in cui noi andiamo ad agire come investitori in un mercato iper tecnologico dobbiamo ricordarci questa variabile quindi quello che stiamo facendo è I I I level risk cioè non è una cosa banale ma è anche I I I yield cioè molte possibilità di avere rendimenti altissimi a doppie cifre che cambiano la vita delle persone tanto quanto basta e quanto avete visto anche nella storicità di questo mercato quando siamo andati magari a vedere delle iper impennate di cripto che avevano fatto magari cifre sensazionali ovviamente basta guardare anche lo stesso bitcoin per comprendere il senso di una cosa del genere però primo punto fondamentale dovete ricordarvi in che mercato siamo e questa è una problematica che dovremmo andare a mettere in conto ci sono dei modi di risoluzione ve li dico alla fine del video l'unico secondo me che funziona veramente è quello che io vi dico alla fine del video il resto opinioni chiacchiere scambi da banco da barra però poi dati concreti su queste cose invece io questo metodo secondo me è il più banale mi avete sentito ripeterlo n volte è il più utile poi c'è un'altra questione da andare a mettere in conto le cripto sono tantissime ragazzi quindi andare a scegliere quelle che secondo noi possono andare a performare meglio e ha bisogno di una serie di considerazioni allora quale scelgo tra le cripto e questo è un altro nocciolo estremamente importante poi c'è il terzo punto fondamentale quando entro e investo in quel cripto anche questo collegato al primo si risolvendo il primo si risolve in parte anche quest'altro punto ma è quello che vedremo in questo video vi ricordo tra le altre cose che io per fare questo tipo di operatività di trading e anche di investimento per alcuni giorni utilizzo quasi sempre BitGet ragazzi insieme ad altri exchange però in questo momento più BitGet vi lascio il link in descrizione mi date una mano con il canale ovviamente la peculiarità è quella di utilizzarlo per fare investimenti di natura speculativa utilizzando i future quindi meno adatto forse alla creazione di un portafoglio cripto di medio e lungo periodo perché in quel caso utilizzeremo non i future ma lo spot però anche BitGet ha molte cripto nello spot quindi può essere utilizzato vi ricordo ovviamente sempre che i checks quindi i centralized exchange sono soggetti poi a una serie di rischi oggettivamente dovete stare sempre attenti ricordatevi che not your keys not your cripto se non avete il wallet privato ovviamente gli exchange possono essere soggetti insomma a hack eccetera a che raggio e quant'altro però vi lascio il link in descrizione con i soliti bonus relativi alla questione delle fee scontatissime è un ottimo exchange per iniziare soprattutto a fare operazioni per esempio lato trading qui per esempio abbiamo agganciato da un po' di giorni una da un po' di ore scusate una operazione long su BTC che ora sta reversando questa per essere precisi è un'operazione che è stata creata con un bot che all'interno della nostra academy ragazzi academy trading on scrivete una mail se volete informazioni è chiusa l'iscrizione la riapriamo fra un po' di tempo però se volete e avete informazioni scrivete una mail e può essere diciamo agganciato automaticamente su ognuno dei vostri conti quindi potete anche gestirlo automaticamente stiamo facendo un po' una sorta di evoluzione tecnologica e stiamo utilizzando proprio BitGet, Bybit e Binance anche per queste cose allora tornando alla questione come andiamo a ragionare per risolvere quei problemi e creare un portafoglio cripto? punto primo rispondiamo alla questione di quali criptovalute dobbiamo andare ad inserire in un portafoglio secondo quella che è il nostro orizzonte allora se il nostro obiettivo è orizzonte temporale è quello di avere stabilità a livello di obiettivo è una crescita moderata è un orizzonte temporale molto lungo allora la risposta è molto semplice e guardate qui la risposta ve la dico con un gesto neanche ve la dico guarda holy bitcoin ragazzi moderata oh mio dio ho avuto la moneta allora holy moderata è orizzonte temporale lunghissimo holy bitcoin ragazzi perché non ha nessun senso fare altre cose al massimo inserite anche la monetina di ethereum però in sostanza non vi conviene fare altro perché se il vostro rischio volete che sia moderato rispetto al rischio delle cripto che è già altissimo e non ha senso andare a creare un altro portafoglio solo bitcoin e al massimo aggiungete eth se invece avete un orizzonte temporale sempre molto lungo e avete uno a obiettivo di rendimento molto spinto quindi estremamente speculativo allora possiamo andare a ragionare su un portafoglio cripto da questo punto di vista io voglio darmi il mio punto di vista ha senso mediare la rischiosità tra bitcoin che è diciamo medio rischio sempre settore cripto parliamo quindi non generale e andare a dire ok medio rischio bitcoin iper rischio le altre cripto faccio una via di mezzo un po' bitcoin un po' tutto il resto delle altre cripto perché non voglio stare troppo esposto allora la via di mezzo in questo contesto ragazzi non ha nessun senso perché andare a dividere il proprio patrimonio diciamo usando bitcoin come grosso e poi il resto magari fare piccole speculazioni ha senso ma all'interno di quelle speculazioni andare a inserire bitcoin non ha senso perché o fate medium cioè volatilità quindi poco rischio tra virgolette e mettete solo bitcoin oppure a quel punto fate iper rischio e fate la parte diciamo dedicata alla rischiosità totalmente dedicata alle cripto tanto poi se volete avere bitcoin in portafoglio avete magari il grosso della fetta su bitcoin se siete investitori cripto consapevoli e sapete cosa state facendo ovviamente non sono consigli finanziari allora non vi serve che lo inserite pure in questi portafogli speculativi delle cripto morale della favola se è un portafoglio cripto deve essere speculativo non ci deve essere bitcoin bitcoin dovrà essere considerato come a parte cioè a prescindere dovrebbe esserci bitcoin in un portafoglio per un investitore cripto e questo è un altro tipo di logica avete capito ragazzi quindi concettualmente io parto sempre dall'idea che bitcoin è imprescindibile cioè deve essere sempre presente in un portafoglio cripto ma non va considerato come parte integrante di un portafoglio speculativo che create non per fare holding all'infinito ma per avere una struttura di crescita di quella parte del patrimonio che sia lunga nel tempo che sia speculativa nel tempo ma a un certo punto dovete chiudere soprattutto se i trend non vanno a favore o invertono o cose simili vabbè spero di essermi spiegato un portafoglio cripto dedicato alla speculazione solo cripto bitcoin è una cosa a parte va considerato una cosa a parte secondo punto in questo tipo di logica se io devo andare a speculare quali sono le cripto che possono darmi più vantaggio e qui ne abbiamo dibattuto da un po' di tempo anche con altri amici ragazzi la soluzione è sempre quella di utilizzare delle cripto che non sono nella non sono molto grosse in termini di market cap ma neanche troppo piccole in termini di market cap io sostanzialmente utilizzo un filtro da questo punto di vista e prendo in considerazione quelle criptovalute che hanno una market cap tra i 100 milioni e i 500 milioni in sostanza intorno ai 200-300 milioni di dollari come market cap questo mi espone ad un rischio alto quindi il fallimento l'hacking lo scam eccetera che però vado a risolvere utilizzando poi la price section ma allo stesso tempo mi dà anche una grande opportunità cioè l'opportunità di vedere un per 10 di quelle cripto fattibile ragazzi quindi questo è un discorso perché una cripto che parte da un tot billion difficilmente riesce a fare percentuali elevatissime elevatissime parlo appunto di iperspeculazione 10.000% quindi qui stiamo creando un portafoglio iperspeculativo ve lo ripeto e stiamo andando a ragionare sulla creazione di quel tipo di portafoglio quindi primo filtro che ci dà questa possibilità cosa uso per andare a decidere quali sono quelle cripto io personalmente utilizzo messali ragazzi che mi dà la possibilità di creare questi screener sinceramente ho la versione pro quindi non mi ricordo se esiste primi pare di sì comunque la versione 3 esiste in ogni caso quindi basta andare negli screener qui per esempio andare a fare la parte generale qui avete per esempio la tutti gli screener di messari andiamo a prendere uno screener qualsiasi per esempio questo con le top cripto e poi andiamo a mettere dei filtri diversi allora poi a me servirà anche spiegarvi un altro filtro che è quello del pricing di bitcoin perché per risolvere il terzo è più importante punto cioè come faccio a evitare tra virgolette di essere scammato tra virgolette perché non è una cosa che risolve totalmente risolve in buona parte ed è anche molto semplice e come faccio a evitare di stare contro trend per fare quello io faccio sempre la stessa cosa molti di voi mi seguono da una vita e lo sanno prendi i prezzi contro bitcoin quindi le cripto che vado a scegliere devono avere un trend positivo contro bitcoin non contro il dollaro perché deve essere un trend che io vado a gestire rispetto al re che è più forte di tutti altrimenti tengo solo il re come sto facendo in tutta questa fase di bear market addirittura anche utilizzando un train system per chiudere le posizioni su bitcoin e riaprirle per gestire questa fase di bear market il che mi è consentito di non avere lost durante il 2022 consistenti sono state molto piccole recuperate dalla prima operazione positiva che abbiamo fatto nel 2023 con il rialzo di bitcoin questo sistema è antimina sistema protection allora andiamo su messari in pratica vi faccio vedere cosa come ho creato il mio screening che l'ho chiamato per gli avanti del genere one billion dream e questo insomma a ognuno le proprie conclusioni su questa cosa magari lo serviamo questa logica dopodiché io mi trovo in questo contesto ragazzi tutto quello che vedete qui sono price e valori i valori di prezzo sono tutti contro bitcoin non sono a favore di bitcoin come vedete io non ho inserito vi faccio vedere anche la struttura allora vi faccio vedere la struttura di qui per andare a vedere la struttura contro bitcoin ho creato una view classificazione e btc che è questa qui quindi tutti questi valori sono stati riportati in bitcoin quindi qui ho le view classiche insomma quelle che porta messari qui quelle che mi interessa dopodiché mi interessa ragionare su queste view qui che sono la price la variazione percentuale 7 giorni 90 giorni 180 giorni un anno e yield to date cioè da inizio anno come va come si creano queste colonne su questo su questa struttura basta sostanzialmente andare e andarle ad aggiungere io faccio in un modo più semplice possibile mi posiziono qui sulla freccetta e dico duplicami la colonna dopodiché questa colonna che io ho duplicato ragazzi vado a settarla con edit column e in questo caso ho messo di di fare una calcolo contro bitcoin e di metterlo in change year to date poi potete fare un giorno specifico un giorno un insieme di giorni per esempio sette giorni nove giorni dieci giorni tre mesi alcune custom within tra un periodo e un altro periodo altre month to date quarter to date year to date che è quella che mi interessava in questo caso e da qui insomma io ho creato in pratica questa questa struttura e questa struttura che vedete è stata anche creata aggiungendo poi la market cap e e altre cose si può fare comunque anche alla fine della struttura delle colonne quando andate ad avere manage columns qui potete andare ad inserire altre colonne che riguardano altri dati per esempio come quello della market cap che io utilizzo sia la circulating market cap sia la fully diluted market cap facendo un add e anche la dominance che potete aggiungere qui con un add sono già fatte queste cose e le trovate quindi vi ho spiegato semplicemente come ho creato questa struttura le colonne che vado a utilizzare che sono le più utili secondo me in questo caso e quelle che mi servono per questa strategia sono la market cap la fully diluted market cap la market dominance attenzione che qui c'è poi un giochino da fare perché la max supply se non è espressa è insignificante questo dato quindi qui bisogna stare attenti poi il price in variazione percentuale contro bitcoin a 7 giorni 90 giorni 180 giorni quindi settimana 3 mesi 6 mesi 1 anno da inizio anno quindi max supply mi serve a comprendere se questa market cap fully diluted ha senso o meno perché se io vedo che qui è totale allora ha senso se invece non c'è allora questa fully diluted può essere allungata a prescindere che comunque quando si parla di cripto si può sempre fare poi ci sono anche il prezzo a 15 minuti l'ultimo prezzo insomma rispetto a bitcoin spesso insatto ma non lo considero quasi mai i tag sono interessanti per capire in che settore siamo e ci muoviamo quali network sono di appartenenza quindi questi sono la struttura dei settori e le categorie quindi qui smart contract categoria del network cryptocurrency marketplace asset sintetici eccetera quindi alcune insomma dati che mi possono servire per avere maggiori informazioni dopodiché andiamo alla regola che utilizzo prima regola è molto molto semplice vado a utilizzare a mettere una rappresentazione di queste criptovalute in base a quello che vi dicevo prima cioè metto dei filtri facciamolo insieme ragazzi ok se io qui elimino i filtri gli dico me li mostra tutti io invece voglio i filtri in base all'attuale market cap quindi metto l'attuale market cap e gli dico deve essere maggiore di 100 milioni come vi ho detto precedentemente e allo stesso tempo minore minore di 500 milioni quindi less than 500 milioni allora io facendo così in pratica vado a inserire quel filtro che vi dicevo prima ed ho già eliminato tutte le criptovalute che contro bitcoin non stanno all'interno di 100 500 milioni quindi quelle più grandi e le minuscole sono totalmente eliminate dopodiché fatto questa cosa passiamo alla selezione delle cripto in base all'andamento del prezzo rispetto a bitcoin ho già detto che voglio avere un trend che sia positivo rispetto a bitcoin queste non sono selezioni di cripto dove poi investo perché poi le passiamo sempre nell'analisi grafica queste criptovalute però sono una selezione di screening cioè io ho un totale poi di cripto da guardare altrimenti sono centinaia e non riusciremo a farle un'analisi grafica su tutte quante quale vado a vedere quelle che otteniamo da questo screening che si fa in questo modo voglio avere comunque un trend che sia positivo su bitcoin e che però non sia anche estremamente eccessivo quindi cosa faccio mi metto in ordine di grandezza tutti quelli che hanno un change a un anno positivo rispetto a bitcoin basta cliccare su questa colonnina e appare qui io ottengo in pratica circa 16 criptovalute che hanno un andamento positivo di quelle appartenenti alle market cap di 100 milioni 500 milioni che hanno in pratica un andamento positivo e sono solo 16 nel 2023 più o meno 22 23 e questo è già abbastanza significativo e sono queste qui ragazzi dopodiché 16 si possono già analizzare tutte cioè non c'è bisogno oggettivamente di andare magari a dire ok non le guardo tutte perché è complicato possiamo già analizzarle tutte perché 16 cripto da andare a guardare sono già un numero sufficiente guardate com'è banale questo discorso ma se io volessi essere più pignolo e più preciso vorrei vedere delle criptovalute che hanno anche un andamento positivo in yield to date quindi da inizio anno ma hanno un andamento magari negativo nei 6 mesi o 90 giorni il recupero successivamente per esempio vi faccio comprendere questo discorso CFX Conflux Network ha un andamento positivo da un anno su bitcoin ha un andamento in yield to date molto positivo 253 forse anche troppo però negli scorsi 6 mesi ha perso il 67% e nell'ultimo 3 mesi ha perso il 30% questo significa che è ha un trend molto positivo in un anno però negli ultimi mesi sta ritracciando rispetto a bitcoin quindi ho già un dato e se voglio una cripto che magari abbia ritracciato rispetto a bitcoin vado a prenderne una che sostanzialmente ha fatto un trend positivo ma in questo momento non è in hype stellare con ascensore ma sta ritracciando perché poi la vado a guardare e dico se inverte nuovamente posso magari agire su quella cripto facendo un long da prezzi non troppo alti quindi questa è una logica interessante vi farò vedere anche una logica inversa da questo punto di vista ed è una figata pazzesca perché si può ragionare anche all'inverso e un'altra per esempio può essere PET la quest'altra criptovaluta perché ha un andamento forse anche migliore rispetto a bitcoin perché è salito 90% da inizio anno 46% da un anno però ha sei mesi vedete negativi ma ha recuperato negli ultimi tre mesi quindi nonostante sia scesa negli sei mesi qui sta già recuperando vedete che negli ultimi tre mesi sono un po' positivi che però è talmente poco che direi stabile quindi si è fermata la fase discendente degli ultimi sei mesi questo mi dice questo dato e poi nell'ultima settimana sta un po' ritracciando quindi questa criptovaluta potrebbe potremmo vederla e andare a vedere appunto che cosa sta combinando poi c'è anche tellor trb che era una delle cripto che da sempre guardavamo anche anni fa infatti ce l'ho qui sul grafico che in sostanza vedete ha tutti i positivi quindi possiamo vedere anche il campione praticamente dell'anno 2023 di questa insieme che noi abbiamo preso rispetto a bitcoin che è tellor possiamo andare a vedere che cosa sta facendo poi analizzare il grafico e vedremo anche che il grafico non è assolutamente malaccio di questa criptovaluta tant'è vero che questa inversione vedete enorme anche su queste dollar ovviamente non è non è bitcoin però è molto consistente è un po' molto pronunciata sicuramente con i piedi di piombo però può essere considerata per esempio questa quest'altra cripto dopodiché andiamo a fare un altro ragionamento possiamo prendere quanti di queste cripto io personalmente le analizzo fino a una decina dodicina poi scelgo anche in base a quelli che sono i settori e a quello che è la mia aspettativa sui settori per essere precisi quindi tellor è un oracolo abbiamo visto pet che invece è machine learning e quindi è la questione legata un po' alle intelligenze artificiali poi ce ne sono altre che si possono prendere in questo contesto per esempio mx token che è un exchange possono anche variare c'è safe pal che è un wallet che è il wallet tra l'altro ce l'ho qui ragazzi anzi ve lo faccio proprio vedere eccolo sotto mano il wallet di safe pal eccolo qua non si vede ok è un wallet in pratica quindi anche quello del token loro insomma in pratica in sostanza io analizzo anche un po' l'appartenenza al settore dei progetti per prendere settori un po' diversi ma anche settori che in linea di massima secondo me possono performare bene per gli anni successivi fatta questa lista quello che bisogna andare a fare è mettere tutte queste criptovalute su un grafico creando un grafico andare ad analizzare quelli che sono i trend come vi insegno da sempre come parliamo da sempre sul mio canale come ho spiegato nel mio corso basic in maniera iper approfondita andando ad analizzare i trend si può poi decidere effettivamente se seguire quel trend con delle operazioni di investimento o meno quindi quando una cripto in pratica secondo la vostra strategia che può essere una strategia di trend follower quindi andare a favore di quelli che hanno un trend positivo comprandole sostanzialmente oppure da buy the dip quindi una strategia di comprare quando chi ha un trend positivo scende un poco non è quando crollano il contrario di quello che avete sentito non è mai quando crollano ma è quando stanno scendendo un po' da un trend positivo per esempio se Taylor facesse in questo caso una roba del genere allora io qui posso intervenire facendo un buy the dip questo è un buy the dip ragazzi non questo è un buy the dip questo non è un buy the dip questo è follia che è un altro tipo di disco però se lo sapete fare l'ho spiegato in una strategia sul corso ho privato come si fa in maniera più oculata allora io poi le metto tutte qui in questo caso vedete le ho trasportate tutte quante perché come vi dicevo erano poche poi gli do un'occhiata non c'è bisogno di fare queste questioni qui che vi dicevo in questo caso sono poche però quello che vi dicevo già alla fine io lo so come andrà a finire quando le andrò a guardare tutte a livello grafico sceglierò quelle che più o meno vi ho detto qui da tenere sotto controllo c'è anche un'altra tecnica iper speculativa cioè fare il contrario ragazzi andare a vedere quelle che hanno stra perso su bitcoin e sono proprio crollate a picco e prendere non quelle che sono fallite come FTX ma prendere quelle che invece nei 6 mesi e 90 giorni mostrano una fase di recupero guardate qui per esempio Helium HNT Helium ha una fase di recupero in questo in questo caso rispetto a bitcoin che comunque è andato bene nell'anno infatti ora vi concludo il video con questa cosa ma ha perso l'80% rispetto a Ray quindi questa crypto parte dal basso quindi se io dovessi ragionare e dire benissimo voglio una criptovaluto che non costa tanto come Tellur che in questo momento è schizzata alle stelle ma ne voglio una che parte dal basso ma prendo quella che ha invertito il trend e allora in questo è un modo giusto di andare a ragionare in pratica guardate come subito all'occhio vi salta da questo tipo di classificazione la cripto da prendere sotto diciamo controllo e andare ad analizzare HNT a quel punto io poi cosa faccio vado sul mio te l'ho messo ok sul mio portafoglio di TradingView sul mio word la mia platform di TradingView e metto Helium allora qual è il HNT giusto ok HNT USD perché poi le guardo comunque su USD ultimamente sto utilizzando queste qui allora vado a guardarla guardate qui è una fase di ancora declino questa cripto quindi la tengo sotto controllo è ovvio che qui non andiamo a trovare che tolute forti ragazzi perché semplicemente parliamo di cripto che hanno perso l'80% rispetto a Bitcoin quindi insomma dobbiamo tenerne in considerazione una cosa del genere va tenuta in considerazione però in pratica negli ultimi mesi hanno leggermente recuperato e si vede da qui il recupero degli ultimi mesi che qui Bitcoin scendeva quindi questa invece è stalita e adesso sta facendo questa struttura struttura che come vedete potrebbe essere magari una ripresa ciclica quindi se io volessi fare una forma di investimento qui sarebbe anche semplice perché compro qui e vendo se mi rompe i minimi rischio poco ma in una cripto che ha una bassa probabilità di fare grandi numeri quindi la probabilità è bassa però se li fa faccio un botto perché stale tantissimo no? e rischio comunque poco da qui a qui vedete sostanzialmente è un rischio abbastanza basso contenuto ovviamente io in questo momento non lo farei aspetterei in ogni caso un'altra inversione aspetterei che salisse in queste zone poi magari per comprendere allora questo è un altro sistemino per andare a fare le a trovare altre cripto scendiamo vediamo se ne troviamo un'altra per esempio Merit Circle questo gaming di metaverso ha questa struttura guardate meno 60 a livello annuale meno 17 dall'inizio dell'anno però più 23% rispetto agli ultimi tre giorni più 30% negli ultimi 180 anche questa si può guardare se volete diciamo se vi piace giocare un po' alla roulette russa poi non ce ne sono granché vedete ancora da questo punto di vista ma in questo stile ma possiamo andare avanti insomma a vedere se troviamo qualcos'altro c'è Store Joy Store Jay che comunque è accettabile anche questa non male e poi vedete anche qui in questa zona si inizia ad avere poi qualche cosino non ho il dollaro ovviamente ma la struttura di Centrifuge per esempio per quanto riguarda i Real World Assets e così via dicendo successivamente come vi spiegavo si va ad analizzare poi la parte grafica agendo sul grafico settimanale quindi io vado a prendermi mi costruisco il mio la mia lista di tutte le cripto la metto in Trading View vado dalla prima mi apro questo grafico a livello settimanale e vado a controllare allora l'ultima che vi dicevo erano quelle in crash che vi ho messo sia Helium sia Merit Circle sia KNC che anche KNC era comunque di quelle che avevano perso tanto quindi qui mi aspetto che partano dal basso qui invece mi aspetto che partano dal lato quindi qui vedete già un trend abbastanza delineato non mi piace questo atteggiamento classico delle cripto perché è l'atteggiamento del pump and dump quindi qui la tengo sotto controllo non farei nulla al massimo attenderei un'inversione e poi per decidere ma questo dovete essere dei trader Taylor invece TRB è iperforte e sta facendo settimane iperforti e insomma non è neanche sceso tantissimo nel bear market guardate la gomma è posizionata è sicuramente una cripto che avevamo anche tenuto sotto stretta osservazione l'anno scorso che può essere messa diciamo sotto osservazione in un portafoglio se per esempio va a farci un leggero down in questa zona e ci dà degli ingressini allora in quel caso si potrebbe fare e via così dicendo ragazzi vedete che molte sono scartate perché hanno questo atteggiamento a pump and dump questa invece a Aragorn può essere interessante perché ha questo trend lineare rialzista AKT è in un trend positivo che sta facendo un dip quindi può essere anche magari una operazione da tentare eccetera e insomma via dicendo attenzione manca l'ultimo anello che li conclude tutti queste analisi grafiche che ci vanno poi a creare un portafoglio devono essere poi gestite in base al vostro position sizing dovete decidere quanta parte del capitale andare a investire su ogni cripto che scegliete in questo modo e in questo modo potete partire anche dall'eguaglianza delle posizioni quindi andando a gestire esclusivamente lo stesso livello di investimento in ogni cripto per poi eventualmente ribilanciare se salgono o meno ricordatevi che bisogna essere professionisti del trading per fare cose del genere non c'è altro modo studiate e formatevi perché le occasioni ci sono però poi se non siete formati non riuscite a gestire cose del genere questo è fondamentale ve lo ripeto e ribadisco per l'ennesima volta non sono così i finanziari bisogna poi ragionare sul re perché il re è il paro ragazzi è sempre la guida quindi portafogli del genere sono adatti a chi vuole speculare con una piccolissima parte del proprio patrimonio un'altra parte va in nella parte cripto ovviamente va in bitcoin o stable coin e ovviamente la stessa cosa è sempre esclusivamente a favore di trend se bitcoin non ha un trend positivo ragazzi e non come in questo caso che sta facendo un laterale leggermente ribassista in questo caso il trend di bitcoin è laterale in questi giorni ma se non ha un trend rialzista ma ha un trend ribassista starei in pausa con i portafogli delle cripto perché lui comanda sempre e nel momento in cui bitcoin dice che andiamo in trend ribassista è più difficile fare profit facendo portafogli cripto quindi chi ve lo fa fare il gioco non vale la candela sostanzialmente l'anello mancante è bitcoin bitcoin deve avere a prescindere un trend o laterale e venire da un trend rialzista come quello attuale che è essenzialmente un trend a rialzo e poi qui si è andato a lateralizzare guardate oppure deve essere full rialzista in questo caso la possibilità di fare queste atteggiame queste diciamo operazioni c'è e ci sta tutta alla grande potete utilizzare poi per scegliere le vostre cripto da questi maxi portafogli delle tecniche di analisi tecnica e analisi ciclica sull'analisi ciclica tra virgolette soprattutto laddove le cripto in questione siano molto piccole e hanno poco storico non sono cripto storiche siccome abbiamo preso quelle a market cap molto bassa di solito non hanno molto storico quindi ok l'analisi ciclica però ricordatevi che può essere che vari perché ovviamente quelle sono cripto che magari hanno manipolazioni di altro tipo sottostanti eccetera poi una volta fatto tutto questo se non conoscete non investite quindi tutto quello che avete definito alla fine ve ne resteranno 4-5 non di più andatevi a studiare i progetti quindi una volta fatto questa cosa vi studiate i progetti e comprendete anche cosa fanno perché potreste essere anche nell'idea che quel progetto vi fa proprio schifo e quindi a prescindere quella la scartate allora questa è un'altra cosa interessante il modo di risolvere l'eventuale possibile scam e tutto il resto è l'analisi proprio grafica che vi dicevo perché andando a analizzare un grafico come quello per esempio di aelf si evince che in pratica questa struttura è tendenzialmente vedete al rialzo se doveste andare a invertire e fare una cosa del genere io vado in stop e attenzione c'è la possibilità di vedere il cigno nero di FTX però capite bene quelli non sono prevedibili i cigni neri e sostanzialmente di solito prima di fallire un progetto scammare o quant'altro inverte è chiaro che in questo caso per esempio proprio in questo specifico caso questa è una cripto che esiste dal 2018 quindi tendenzialmente parlare magari di scam potrebbe non avere molto senso perché scammavano prima non prendete cripto che sono molto piccole perché se sono molto piccole in termini sono nate da pochissimo lo scam può avvenire ma soprattutto ricordatevi stop loss quindi anche qualora dovesse invertire a un certo punto ed essere un cigno nero alla FTT per intenderci di FTX quindi il fallimento in pratica di FTX uscite a gambe levate stop non fa niente non c'è problema per esempio l'operazione di prima che ho fatto vedere su come si chiama su BitGet ragazzi è stata chiusa dal bot in automatico vedete non c'è più ha perso lo 0.22% vabbè allora detto questo fatemi sapere cosa ne pensate di questo metodo semplice per chiarvi un portafoglio cripto utilizzatelo da qui al prossimo anno io farò la stessa cosa le tecniche di scelta abituatevi a ragionare così ragionate in termini operativi non è difficile badate bene non siate superficiali sono argomenti importantissimi possono cambiare la vostra vita non siate superficiali non è difficile andate a crearli in questo modo spero di avervi dato un grande valore aggiunto con questo mini corso di come creare un portafoglio cripto statisticamente ragionando in maniera statistica lasciatemi un mi piace se vi è piaciuto iscrivetevi al canale fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate un grazie è sempre gradito ciao raga ciao